Dino, da pochi giorni avete comunicato che provvederete a integrare il contributo già esistente da parte della Regione per gli studenti e per i mezzi pubblici. Ci spieghi un po' come avete articolato la proposta? Sì, innanzitutto c'è una persona a disposizione, una professionista al Comune di Procida che dà le indicazioni e aiuta a compilare le domande. Sia quella della Regione Campania, per cui tutti gli studenti tra i 16 e i 26 anni possono pagare 50 euro e avere l'abbonamento al servizio pubblico. Poi noi come Comune abbiamo voluto integrare, come dicevi tu Cristiano, per i bambini al di sotto degli 11 anni. Quindi diamo un contributo, dopo che la famiglia ha sottoscritto l'abbonamento per il bambino, il Comune concede un contributo a parziale ristoro. E a dire la verità siamo anche oltre il 70% rispetto a quella che è la spesa. Quindi è un modo per cercare di far adoperare il servizio pubblico, visto che è un servizio che comunque esiste e che anche i bambini possono iniziare a prendere confidenza. È un servizio che si soddisfa, quello pubblico, oppure miglioreresti ancora, chiederesti ulteriori integrazioni? Non c'è dubbio che noi ogni volta che abbiamo un'interlocuzione su questo con la Regione Campania e Coeav chiediamo di mezzi nuovi, di fare in modo che il servizio vada meglio. Però anche quello che c'è lo dobbiamo adoperare nel migliore dei modi perché non è bello vedere che poi tanti bus vadano avanti e indietro vuoti e poi casomai abbiamo il problema appunto del trasporto privato, delle macchine. Quindi tutto ciò che il Comune può fare a favore del servizio pubblico lo deve fare. In questa fase abbiamo voluto spendere un piccolo budget per dare sia ai cittadini un contributo proprio in quella direzione. Una questione che si fa ancora più urgente considerato che fra un po' la circolazione incontra delle difficoltà per i lavori. Sì, cogliamo questa difficoltà per costruire delle opportunità, delle opportunità di servizi meglio e di più del servizio pubblico. Quindi se prendiamo questa sana abitudine può darsi che poi ce la ritroviamo e facciamo anche diminuire al regime il traffico privato che abbiamo sulle nostre strade.